Innanzitutto grazie a tutto lo staff altri, tutti, indistintamente, in particolare Cinzia e Federico che ci hanno seguito per un anno, penso che non sia facile poi stare insieme alle stesse persone per un anno di vita. Grazie a Nasbi per il capitale soprattutto sociale, che ci ha potuto dare competenze effettive finalmente, ma soprattutto grazie al capitale umano, perché queste persone che sono qua sono veramente molto preparate oltre ad essere persone eccezionali. Quindi per me è stato questo il mio valore aggiunto per aver conosciuto queste persone. Grazie.